Carissimi concittadini, ringrazio ancora una volta tutti coloro che in questi giorni, con atteggiamento maturo e responsabile, hanno deciso spontaneamente di rimanere a casa con le proprie famiglie, a tutela della propria salute e della collettività. Purtroppo però devo segnalare che ancora oggi, nonostante i ripetuti avvisi e le raccomandazioni, c'è qualcuno che continua ad avere un atteggiamento irresponsabile. Vediamo circolare molte macchine durante il giorno e non sempre, a nostro avviso, si tratta di persone che escono per le sole tre motivazioni previste. Lo vorrei ricordare, comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di primaria necessità. Ad alcuni forse non è ancora ben chiaro, e vorrei ribadirlo, che è consentito uscire per fare la spesa, ma questo non vuol dire uscire tutti i giorni o addirittura più volte al giorno. Dovremmo tutti abituarci a fare la spesa, se possibile online, o essere capaci di programmarla settimanalmente e negli esercizi commerciali più vicini alla nostra abitazione e comunque mai fuori dal territorio comunale. Con ordinanza sindacale ho ritenuto opportuno, nei giorni scorsi, sospendere ad esempio la vendita dei grattevinci e giochi dello stesso genere, per evitare possibili scuse e inutili uscite. C'è ancora qualcuno che sembra insofferente a queste limitazioni, e lo posso capire, ma è veramente importante per tutti noi fare questo sacrificio, per non mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. Portare il cane all'aperto o fare delle attività motori all'aperto è consentito, ma sempre vicino alla nostra abitazione. Se non assumeremo tutti un comportamento responsabile, si renderanno necessarie misure ancor più stringenti. Vi chiedo cosa sia meglio in questo momento. rimanere a casa, protetti, oppure uscire aumentando l'esposizione a contrarre il virus. A Castrolibero ci sono attività di genere alimentari o farmacie che si sono organizzate per la consegna a domicilio. E li ringrazio per la collaborazione. In questi giorni poi tutti noi siamo venuti a conoscenza di comuni che hanno adottato provvedimenti fortemente restrittivi, chiudendo gran parte degli accessi alle loro città. Vi ricordo che Castrolibero è nel cuore dell'area urbana e chiudere gli accessi è complicato. Tuttavia, ho ritenuto necessario adottare un'ordinanza che firmerò nelle prossime ore per chiudere tre varchi, così da facilitare il controllo del territorio che stiamo garantendo con le sole nostre limitatissime forze. Applauso e ringraziamento alle pattuglie dei vigili e all'arma dei carabinieri. Non ci sono casi poi di positività a Castrolibero. Tuttavia, lo sappiamo, non siamo immuni e potenzialmente tutti esposti al contagio. La scienza ci avverte che l'unico modo per contrastare e contenere il diffondersi del virus è quello di rimanere a casa, oltre a seguire le regole che ormai conosciamo tutti a memoria. Ripeto, non ci sono casi positivi in città ad oggi, eppure sono circolate notizie false da parte di chi forse non sa che così facendo commette reato di procurato allarme. Anche per quanti nelle autocertificazioni, vorrei ricordarlo, dichiarano il falso, pensando così di potersi spostare per motivi diversi da quelli autorizzati, e per tutti coloro che non hanno ancora comunicato al proprio medico di base, all'autorità sanitaria, ai vigili, alla Regione Calabria, di essere rientrati da altre regioni, ci sarà tolleranza zero e denunce penali. Dobbiamo riscoprire il rispetto per gli altri. Questo significa essere comunità. La nostra vita è cambiata, ed anche il nostro modo di lavorare e di studiare. C'è lo smart working, il lavoro agile, la didattica a distanza per i nostri figli, e colgo questa occasione per ringraziare quanti, e sono tantissimi, che si sono adeguati anche velocemente a queste nuove modalità. Sono certo che da questo periodo usciremo tutti migliori, anche nei rapporti sociali. Stiamo riscoprendo il valore dello stare in famiglia, e quando sarà finalmente possibile, apprezzeremo di più lo stare insieme, e forse ridurremo anche la nostra permanenza, a volte superficiale, sui social. Sono fiducioso che arriveranno forme di sostegno alle famiglie, alle imprese, che i mercati si riprenderanno, ed insieme supereremo questo triste momento. A tutti voi va il mio più cordiale saluto e un abbraccio virtuale, chiedendovi ancora una volta la vostra preziosa collaborazione. Grazie.